Maria Immacolata, segno di salvezza e di speranza. Parole che racchiudono il senso di quello che sarà l'8 dicembre 2021, il giorno più atteso dai cittadini di Torre del Greco e che anche quest'anno vivranno senza la processione del carro trionfale dell'Immacolata per le vie della città. Una scelta obbligata dall'emergenza sanitaria non ancora conclusa, secondo le norme previste dal protocollo CEI e Governo Italiano e le disposizioni dei Vescovi Campani e dell'Arcivescovo Battaglia per le norme anti-Covid. Lo hanno reso noto con un comunicato domenica sera Don Giosuè, Don Antonio e il Consiglio Pastorale. Per tali ragioni, anche quest'anno, la venerata immagine dell'Immacolata sarà esposta in Basilica, come l'anno precedente, su un'apposita struttura che per l'occasione utilizzerà il tradizionale scivolo del carro trionfale e sarà circondata da tutti i puttini con i simboli mariani. Il bozzetto e la realizzazione della struttura sono opera di Riccardo Lamberti. Quest'anno si celebrano i 160 anni del voto, una promessa, una catena che non si è mai spezzata, un legame indissolubile, antico e profondo con la Vergine Maria. Fede, devozione, storia, tradizione, l'Immacolata per il popolo torrese e tutto. Una notizia appresa ancora una volta con amarezza dalla comunità che sperava di rivivere le emozioni dell'8 dicembre, ma come più volte affermato da Don Giosuè, la Madonna, più che portarla sulle spalle, occorre portarla nel cuore tutti i giorni, sulle strade della vita. Per venire incontro al desiderio di venerazione da parte dei fedeli, anche quest'anno l'immagine della Madonna resterà esposta nella navata centrale della Basilica per tutto il periodo delle feste natalizie, fino all'8 gennaio.